oggi andiamo a trovare colei che denominata la dea della fortuna entra puntualmente ogni settimana nelle case degli italiani essendo bellissima ha sempre dei gorilla alle spalle ebbene sì benvenuti qua nel fantastico set di casalotto siamo con lei la bellissima scela capriona denominata anche la dea della fortuna che rapporto ha in scena con i numeri ciao andrea un saluto naturalmente a tutti gli amici di tg evans e innanzitutto finalmente siamo riusciti a organizzare questa intervista questo incontro devo dire che sei molto privilegiato perché lo studio essendo piccolo non abbiamo pubblico quindi sei il primo ufficialmente che viene qua diciamo ospite nella nostra scenografia quindi sei benvenuto nella mia seconda casa a casalotto appunto perciò invece quando nel ruolo di cantante scena perché tu hai grazie alla collaborazione di giovanni cavazieri giusto che comunque un grande compositore cantautore eccetera come ti sei trovata in delle essere appunto di cantante ho sempre cantato sotto la doccia come tutti poi grazie a questo progetto nato tanti anni fa adesso purtroppo si è sciolto il gruppo i test e le canzoni erano tutti c'è di giovanni capiezze però è stata un'esperienza nuova e diversa devo dire da lì ho capito e scoperto che anche chi non ha una voce pazzesca grazie alla tecnologia grazie al risale e le registrazioni chiunque può cantare e questo ci fa molto piacere perciò ho anche delle speranze anch'io di poter cantare e qui allora da questo fantastico studio televisivo andrea evans con la bellissima scena caprioli seguitela perché lei posta una foto su instagram e le foto vi assicuro che sono stupende un saluto a tutti e alla prossima ciao